Buon venerdì sera e benvenuti in questa nuova puntata di HV24, mancano solo due giorni a Venezia-Verona, un derby che torna dopo tantissimo tempo in Serie B, mentre lo ricorderete i lagunari li abbiamo già incontrati qualche anno dopo anche in Lega Pro, Serie C che dir si voglia. Il Verona si è preparato per due settimane a questa partita, lo sapete c'è stata la sosta per le nazionali e a partire da martedì Mister Grosso è tornato ad avere a disposizione tanti dei suoi uomini che erano partiti proprio con le rispettive nazionali. Gli ultimi due sono stati Lee e Tupta che sono arrivati praticamente l'altro ieri insieme ai compagni di squadra, però Mister Grosso ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, sentiamo i passaggi più importanti della sua conferenza che ci presenta appunto la partita di domenica. La nostra consapevolezza è quella di voler andare a fare la partita per ottenere un risultato positivo perché penso che abbiamo le qualità per poterlo fare. Sei stato anche psicologo in queste due settimane con il gruppo, si ha provato a lavorare anche sulla testa proprio dei giocatori? Io provo a farlo quotidianamente perché ovviamente quando è un gruppo composto da tanti giocatori ognuno ha il suo carattere, io non ho intenzione di cambiare il carattere di nessuno di loro, però abbiamo tutti quanti il desiderio di voler costruire una squadra forte perché abbiamo degli interpreti bravi, non ci dimentichiamo che abbiamo anche diversi ragazzi giovani che hanno delle qualità ma che sicuramente si trovano in un ambiente con tante aspettative, quindi non è facile per nessuno, però sono convinto che questo mix quando riusciremo a trovare l'amalgama giusta saremo in grado di essere protagonisti di questo campionato. Esodo giallo-blu, bruciati i 1.352 biglietti a disposizione, l'ennesimo segnale di affetto verso l'Elas Verona? Questo per noi, come lo ripeto dal primo giorno, è un grandissimo segnale perché se mai ce ne fosse stato bisogno ci fa capire il calore e la voglia che hanno i nostri tifosi di voler tornare ad essere protagonisti. Noi abbiamo un solo modo per poterli ricambiare, quello di lavorare quotidianamente con grandissimo impegno e provare ad ottenere dei risultati, cosa che nelle ultime partite non siamo riusciti a fare e proveremo a farlo già dalla prossima. Nel frattempo è stato esaurito praticamente in 24 ore il settore ospiti dello stadio Penso proprio di Venezia che sorge su questo caratteristico, potremmo dire isolotto, 1.352 biglietti a disposizione, tutti venduti ai tifosi giallo-blu. Ci ha parlato anche di questo il difensore giallo-blu Luca Marrone che abbiamo intervistato per voi in occasione dell'aperitivo giallo-blu dedicato agli sponsor. Domenica finalmente si torna in campo, dopo la pausa come sta il Verona anche perché affronterà una partita difficile, un derby contro una squadra che ha appena cambiato l'allenatore? Abbiamo lavorato bene in questi giorni, in queste settimane come dall'inizio del campionato, sappiamo che sarà una partita complicata perché una squadra che ha appena cambiato l'allenatore quindi magari cercheranno di metterla sull'entusiasmo, sulle motivazioni ma sappiamo che per noi è una partita troppo importante e vogliamo ripartire subito. Voi avrete dalla vostra parte però 1.350, 2 per l'esattezza tifosi arrivati da Verona. Questo deve essere uno stimolo in più per noi perché i nostri tifosi ci stanno sempre dietro, ci aiutano, ci danno una grossa mano e vogliamo conquistare dei punti importanti anche per loro. Chiudiamo la parentesi sulla prima squadra rinnovando l'appuntamento a domenica alle ore 15 allo stadio Penso con i numeri del match che abbiamo raccolto per voi anche grazie al supporto prezioso di Opta Sports. Sappiamo appunto che sono ben 13 anni che non andava in scena questo derby Veneto tra Verona e Venezia, i due capoluoghi più popolosi della regione non si trovano infatti di fronte da lontano 2005 ma i precedenti in Serie B pensate un po' sono ben 60, due squadre che ne hanno fatta parecchia di cadetteria in questi 60 precedenti. Leggero vantaggio per il Verona proprio con 23 vittorie, 20 le vittorie del Venezia e 17 i pareggi di grande equilibrio come del resto regna in quasi tutti i derby del Veneto. Parlando di chiri subiti possiamo notare come il Verona sia la squadra che ne ha concessi meno in assoluto in questa Serie B solamente 21 è sicuramente un dato importante per Mister Grosso sul quale costruire appunto una difesa sempre più solida che magari appunto riesca anche a fare qualche partita senza completamente subire i gol, si parte da questo dato. Il Venezia però non è una squadra difficile da affrontare in trasferta, pensate che nell'ultime 21 partite al Penso il Venezia ha perso appena tre volte. Una curiosità su Santiago Colombatto che nonostante abbia effettuato tantissimi passaggi da qui all'inizio della stagione ben 362 è riuscito a mandarne a segno ben il 90,1% guidando così in questa classifica tutti i suoi compagni di squadra. Parlando invece dell'arbitro sarà il signor Eugenio Battista che conosciamo bene dalla sezione AIA di Molfetta è l'arbitro per capirsi che ha arbitrato il derby, un altro derby, quello contro il Vicenza vinto 3-2 all'ultimo momento dal Verona nell'ultima Serie B con il famoso gol di Romulo al volo. Tanti comunque i precedenti sono ben 8 con 4 vittorie per il Verona, 2 pareggi e 2 sconfitte. Con il Venezia invece sono due i precedenti, una vittoria e una sconfitta. L'ultimo un rotondo 3-0 rifilato dal Venezia al Perugia lo scorso 3 di giugno. Continuando a rimanere in ambito prima squadra, questa settimana giovedì c'è stata anche una visita molto importante dell'Ellas Verona al reparto di onco-ematologia dell'ospedale di Borgo Trento dove lo sapete ci sono dei bambini molto sfortunati aiutati quotidianamente però da Abeo, una gestazione, un onlus che il Verona supporta da anni. Ieri è stato inaugurato un nuovo macchinario molto importante per questo reparto. Vediamo insieme com'è andata. Grazie. 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 Sempre nella giornata di ieri ma l'abbiamo anticipato prima parlando di marrone c'è stato l'aperitivo giallo-blu questo appuntamento che si ripete più volte nel corso dell'anno dedicato proprio ai partner che scelgono di sostenere l'Ella Sverona anche qui abbiamo qualcosa da mostrarvi lo facciamo in questo servizio Grazie a tutti! 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 squadra, ci allenavamo qua il fatto di essere immersi nella città e quindi vivere anche il mercato del sabato con questa vicinanza se da una parte nei momenti difficili poteva diventare un problema, dall'altra sicuramente è un valore aggiunto perché si era sempre con la testa a cosa sarebbe accaduto poi là dentro la domenica. Passiamo ora a parlare delle Las Verona Women che una settimana fa ci ha fatto esultare con questa bellissima vittoria per 1-0 sulla Roma che proietta peraltro in alto le ragazze giallo e blu con quattro punti realizzati in due partite, ci parla del momento della squadra il mister Sara Di Filippo. Si torna in campo mister, sabato l'impegno di campionato però riavolgiamo un attimo il nastro perché quanto è importante una vittoria ottenuta come quella contro la Roma? Direi che è stata una vittoria importantissima, abbiamo fatto di necessità virtù, abbiamo subito molto ma abbiamo portato a casa tre punti che per noi sono davvero importanti per questo campionato. Adesso andiamo sabato a Mozzanica ad affrontare una gara altrettanto impegnativa e altrettanto importante per il nostro cammino e spero che le ragazze affrontino la gara come hanno affrontato dal punto di vista psicologico e atletico la gara di Roma. Focalizziamoci un attimo sull'avversario di sabato il Mozzanica perché ha ottenuto una vittoria importante contro il Tamagnaco dopo aver perso la prima giornata contro la Fiorentina, un avversario molto giovane, difficile da decifrare, quasi che partita si aspetta? Mi aspetta una partita molto difficile perché il campo di Mozzanica è un campo molto molto impegnativo. Anche negli anni passati tutte le squadre hanno fatto fatica e appunto sarà una battaglia. È una squadra molto tosta dal punto di vista fisico e ultimamente ha trovato la quadra giusta, ha fatto una grande prestazione a Tamagnaco e ha portato a casa tre punti e quindi sarà una partita molto molto impegnativa da tutti i punti di vista. Speriamo appunto che le ragazze entrino in campo con la stessa grinta, con lo stesso impegno, con la stessa concentrazione di sabato scorso e però per vincere e convincere ci vuole qualcosa in più. Ecco possiamo dirlo però ripartire dal filo conduttore della sfida contro la Roma dunque anche tenere alta la tensione? Per forza sempre non bisogna mollare mai, soprattutto in questo periodo che è un inizio campionato ma siamo già quasi a metà. Quindi bisogna vincere e convincere, fare dei buoni risultati e delle buone prestazioni e cercare appunto di mettere più punti in saccoccia prima possibile. Ecco quello di sabato sarà il primo di due impegni bergamaschi ravvicinati, c'è un obiettivo che si è prefissata. Ma io l'obiettivo ce l'ho ma non lo dico, un po' per scaramanzia, un po' perché voglio che ci si concentri solo su una partita che è quella di sabato. Affrontiamo il Mozzanica, facciamo il meglio che possiamo e dopo di che penseremo al resto. Giovanissima poi l'attaccante Margherita Giubilato che abbiamo incontrato per voi sempre approfittando dell'aperitivo giallo e blu di giovedì sera. Anche lei ci racconta il momento della squadra ma soprattutto il suo momento perché insomma essere a 18 anni in una squadra di serie A ambiziosa e importante con uno storico alle spalle come l'Ellas Verona Women non è cosa da tutti i giorni. Siamo con Margherita Giubilato, una delle più giovani dell'Ellas Verona Women. Come sta andando comunque la tua esperienza nella squadra? Come stai trovando e quanto stai imparando soprattutto dalle compagnie più esperte? Sono una delle più giovani, siamo una squadra molto giovane comunque rispetto a tutte le altre squadre del campionato e io e anche le mie compagne della mia stessa età stiamo cercando di imparare molto dalle compagne magari che vengono anche da altri campionati essendo comunque una squadra molto varia per le straniere che abbiamo e stiamo cercando di prendere un po' di piccole cose da tutte. Ed è un percorso che sta andando bene perché domenica è arrivata la prima vittoria in campionato contro la Roma, una vittoria importante che vuole darvi una bella spinta. Sì, allora la vittoria contro la Roma ci è servita molto sia per l'umore nostro ma anche come gruppo ci stiamo unendo sempre di più dopo la vittoria che abbiamo avuto sulla Roma abbiamo consolidato ancora di più il gruppo, la forza in campo e la forza fuori ed è servita molto poiché è stata la prima vittoria in campionato e speriamo che ce ne siano molte altre. Spera di continuare a cominciare già da sabato perché si va a Mozzanica contro Mozzanica è un campo ostico, sono sempre state molto brave a gestire la partita in casa loro anche l'anno scorso, però noi vista la scorsa partita contro la Roma cercheremo di dare il meglio e vincere anche questa. Passiamo infine al settore giovanile, lo sapete ogni settimana incontriamo un nuovo mister o un tecnico comunque per farvi scoprire quello che è un mondo vastissimo fatto di centinaia di atleti, decine di allenatori che ogni giorno lavorano sul campo per portare dei talenti di anno in anno fino alla prima squadra. Oggi siamo andati da uno che allena dei ragazzi giovani ma non più giovanissimi, ovvero Francesco Tramarin che allena gli esordienti del 2007, quarto anno per lui al Verona, ci ha raccontato sia il momento della sua squadra che la sua esperienza in giallo e blu. Siamo con Francesco Tramarin che è il mister degli esordienti 2007 dell'Ellas Verona che insomma lo scorso fine settimana ci hanno dato una bella soddisfazione, hanno vinto il quarto derby su quattro in programma nel weekend, come si fa a vincere un derby con dei ragazzini di 11 anni alla fine? Intanto buongiorno a tutti, devo dire che è stata una bellissima partita, è stata una partita dura, combattuta e sofferta, però abbiamo resistito il primo tempo dove forse i nostri avversari hanno dato qualcosina in più, poi dal secondo tempo attraverso il gioco e attraverso anche un bel gol nei primi minuti ci hanno sbloccato un po' mentalmente e abbiamo iniziato a giocare come i ragazzi in questo periodo, ci stanno dimostrando di fare e poi è andato tutto in discesa. Ecco esiste già una psicologia anche nei primi anni proprio del settore giovanile? Sì diciamo che in quest'annata bisogna entrare veramente dentro alla testolina dei ragazzi perché è una facilità complicata e loro ti seguono in tutto, il primo tempo ripeto è stato un po' difficile, abbiamo sofferto anche di subire qualche gol e poi abbiamo avuto la risposta che abbiamo voluto nel secondo tempo stimolandoli un po' anche mentalmente. Parliamo un attimo di te, ormai sono diversi anni che sei qui nel settore giovanile del Verona, vedi un percorso, vedi i tuoi ragazzi che ormai avevi qualche anno fa che cominciano a fare grandi cose anche nelle categorie nazionali? Certo, dico io ho fatto 5 anni e ho allenato la categoria Pulcini, quest'anno è il primo anno che alleno il secondo anno di esordienti e questo gruppo di ragazzi tra l'altro l'ho avuto due anni fa e li ho visti molto migliorati sia fisicamente che tecnicamente, a livello cognitivo e questo secondo me è grazie all'ottimo lavoro che stiamo svolgendo nell'attività di base negli ultimi anni e grazie anche al nostro responsabile Alberto. Le vittorie però non arrivano da sole, c'è uno staff dietro? Certamente, tutto questo lavoro, questa crescita dei ragazzi devo ringraziare Thomas Vincenzi, Matteo Bullo, Alberto Perbellini, Paolo Rossi, Sandro Sargentini e non per un ultimo il nostro dirigente principale Nicola Sfrigo perché tutti insieme stiamo svolgendo un ottimo lavoro. In chiusura come sempre lo sapete c'è tutto il programma del settore giovanile, andiamo a vederlo gara per gara. La primavera, giusto dirlo, giusto citarlo, giovedì ha vinto il ricorso ed è tornata ad avere tutti i punti che ha acquistato sul campo in classifica. In buona sostanza era successo che alla prima giornata contro il Padova il Verona aveva schierato Alexis Savellev, centrocampista a letto nel classe 99 che proprio in virtù del suo essere classe 99 non è più un primavera ma è tutti gli effetti un prima squadra inserito nella lista B ovvero gli under 23 dell'Elas Verona e quindi aveva già giustamente scontato la squalifica dello scorso campionato nella prima giornata di Serie B tra Verona e Padova e quindi poteva essere schierato in una partita di primavera. Il Verona ha vinto il ricorso, ha vinto 3-2 quella partita e ora è primo in classifica. Domani invece giocherà contro il Bologna alle 15, una sfida alle vertice, 10 punti per il Verona, 7 per il Bologna, è proprio una sfida per i primissimi posti della classifica tra due retrocessi nella scorsa stagione. È ferma invece l'under 17 ma è l'unica perché l'under 16 e l'under 15 curiosamente saranno di scena contro lo stesso avversario della prima squadra ovvero il Venezia. Derby contro la Virtus in trasferta per l'under 14 che è chiamata a riscatto dopo la sconfitta contro il Cittadella. Sfida al Pordenone all'antistadio invece per gli under 13 e amichevole contro la Pro Sesto per gli esordenti di 2007 di Mister Tramarin che abbiamo appena ascoltato. Doppia stracittadina contro il Chievo per gli esordenti 2008 e i Pulcini 2009. Infine campionato, quindi punti a disposizione contro il San Martino Speme per i Pulcini 2010. Per questa puntata di HV24 è veramente tutto, noi ci sentiamo domenica direttamente al Penso dove vi racconteremo minuto per minuto la sfida tra Venezia e Verona. Una buona serata. Grazie a tutti.